giocatore singolo molte banche ti permettono di pagare a rate ma solo con il conto e carta di debito BBVA allora guarda guarda allora un montaggio qua facciamo questo l'abbiamo finito un po' malo modo però l'abbiamo finito queste sono solo quelle di prova andiamo in là ok rifacciamo la qualificazione è la gara è la gara Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' andata benissimo, 1 minuto e 4 e 37 secondi. Grazie a tutti. 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 Okay. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh. Grazie a tutti. No. Oh. 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 Oh.